Buonasera e ben ritrovati su Radio Tecno Resistence da Jimmy Gianmario Avena e Radio Tecno Resistence torna dopo un giorno di buco chiedo scusa umilmente ai miei radioascoltatori ma Jimmy è stato poco bene nella giornata di ieri e l'altro ieri nulla di grave ragazzi cari amiche e cari amici è la salute prima di tutto si dice e quindi per farmi perdonare oggi mi sento livemente meglio ho deciso di fare una mega maratona del venerdì sera stasera non penso di uscire e di restare qui in casa e quindi appuntamento doppio oggi appuntamento doppio con Radio Tecno Resistence dalle 17.45 alle 19.30 circa ci sta l'appuntamento che ora inizia con Chill and House episodio 9 special edizione sul genere funky house vocal hack degli anni 90 quindi ascolteremo una serie di pezzi classic house appunto dal 1990 in poi ho scelto una trentina di dischi che mi scelterò e potrei andare a indicare qualche nome Creptomaniacs, Troy Brown, Afropeans, chi altri? Lego, Fats and Small, insomma Man at Work e parecchia house vocale stile funky house anni 90 e dunque Radio Tecno Resistence torna appunto dopo un giorno di pausa con questo appuntamento doppio perché dopo Chill and House episodio 9 ci sarà l'appuntamento invece normale con il Tecno Friday e le Tecno News Tecno News e Tecno Friday però in una versione particolare speciale presenterò una novità una novità forse per voi ma non per me e la puntata sarà dedicata ad un'etichetta molto molto particolare un'etichetta italiana un'etichetta italiana che è nata nei pressi di Roma che si chiama Analogic Density che ha come caratteristica come dice appunto il nome Analogic Density quindi prettamente tracce che vengono editate direttamente da strumentazione analogica e quindi tutta la puntata sarà dedicata alle 5 release di Analogic Density che sono 5 venili uno più bello dell'altro oltre che a vedersi perché sono dei venili colorati ma anche bellissimi da ascoltare uno stile classic Tecno old school acid rivisti oggi veramente un suono pazzesco questi venili dell'Analogic Density sarà un set ibrido perché un'uscita di Analogic Density è uscita in tape venire per esattezza è il tape one che si chiama Planet Obsolescence Planet Obsolescence che quindi esce su Analogic Density come prima uscita in tape e poi seguono queste 5 uscite in venire bellissimi con vari artisti e questo sarà arricchito anche da un set di 25 minuti del mio caro amico Ciusta un abbraccione a Fabio il Ciusta che ci delizzerà quindi con un live set che lui ha già pubblicato editato anche su YouTube e quindi un set totalmente live ed analogico del Ciusta che quindi terminerà la trasmissione di Analogic Friday che sarà una speciale edizione del Tecno Friday Tecno News come consueto durante l'episodio del Tecno Friday c'è appunto l'elenco e la descrizione degli eventi in programma nel fine settimana riguardo le iniziative di Musica Tecno mi dedicherò in queste quasi 3 ore pazza quasi 4 ore di messaggio che non sono assolutamente poche ma mi fanno sfagare mi fanno star meglio sono queste la mia medicina sono la musica tecno la musica elettronica inizieremo con Musica House Funky House e proseguiremo con la Tecno All School Tecno Acid di Analogic Density visitate il sito www.analogicdensity.com trovate anche le uscite in preascolto sul SoundCloud e dunque poi a seguire le Tecno News con gli appuntamenti dell'iniziativa e il set finale di Fabio Ciusta con Fucking Rave un set di 25 minuti solo ed assolutamente analogico con delle caffe a bomba, cassa dritta, basem e suoni stupendi dunque si inizia questa lunghissima maratona ci saranno pochi interventi vocali da parte mia cercate di comprendermi perché anche da come si sente da questo mio primo intervento sto un po' stanco dovuto a questo mio piccolo acciacco di salute, nulla di grave, ci ricarichiamo con la musica, ci rafforziamo vi darò gli appuntamenti della lista degli eventi di oggi, venerdì, sabato e domenica quindi tutto il weekend dell'iniziativa di Musica Elettronica e Tecno in Italia nel corso del Tecno Friday, Tecno News Special Edition Analogic Friday con l'etichetta Analogic Density su Radio Tecno Resistence, Resistenza Tecno Culturare e iniziamo invece ora con Chill and House di sottofondo, queste bellissime tracce vocal, quindi un messaggio di un po' di dischi, vocal house, funky house nello schiere degli anni 90, tutto è sempre in venire su Radio Tecno Resistence, un abbraccio di Resistenza da Gianmario Arena, Jimmy, andiamo avanti, iniziamo Grazie Grazie a tutti. 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 a tutti.